Abbiamo ulteriormente sollecitato il commissario straordinario competente di provvedere alle opere di funzionalizzazione del ferro di cavallo, ma in titolo di collaborazione istituzionale l'azienda del comune, l'AMAP, sta facendo un intervento tampone per cercare di eliminare alcuni mazzi, alcuni materiali che costruiscono il recapitammare del ferro di cavallo. È un contributo certamente piccolo, ma comunque che potrà alleviare il disagio della popolazione in attesa che si possa risolvere definitivamente un problema con le opere di competenza del commissario straordinario. Grazie a tutti.